Annabeth Annabeth inciampò letteralmente nel secondo titano. Dopo essere entrati nel fronte temporalesco, arrancarono per ore, affidandosi alla luce della lama in bronzo celeste di Percy e a Bob, che mandava un lieve bagliore nel buio, come una sorta di inserviente angelico. Annabeth riusciva a vedere a non più di un metro e mezzo davanti a sé. Era strano, ma le terre oscure le ricordavano vagamente San Francisco, dove abitava suo padre, nei pomeriggi d'estate, in cui un banco di nebbia calava sulla città come una pellicola umida e fredda, inghiottendo Pacific Heights. Solo che lì nel Tartaro la nebbia era fatta d'inchiostro. Scogli alti e minacciosi sbucavano all'improvviso, così come i crepacci imprevisti, che Annabeth riusciva a malapena evitare. Ruggiti mostruosi riecheggiavano nelle tenebre, senza che si capisse da dove provenivano. C'era una sola certezza. Il terreno era ancora in pendenza. Giù sembrava l'unica direzione consentita nel Tartaro. Appena Annabeth provava a fare anche solo un passo indietro, si sentiva stanca e pesante, come se la gravità aumentasse apposta per scoraggiarla. Se l'intero baratro era davvero il corpo del dio Tartaro, Annabeth aveva la brutta sensazione di scendere dritta nella sua gola. Era così assorte in quel pensiero, da accorgersi troppo tardi della sporgenza. «Ehi!» gridò Percy, allungando un braccio per afferrarla. Ma ormai era tardi. Annabeth stava già cadendo. Per sua fortuna era un avvallamento poco profondo, in gran parte occupato dalla grossa bolla di un mostro. Annabeth fece un atterraggio morbido, su una superficie calda ed elastica, e si sentì grata, almeno finché non aprì gli occhi, ritrovandosi a fissare, attraverso una membrana dorata e luminescente, un'altra faccia, molto più grande della sua. Strillò e agitò scompostamente le braccia e le gambe, scivolando giù dalla bolla membranosa, con il cuore che si esibiva in un centinaio di capriole acrobatiche. Percy l'aiutò a rialzarsi. «Stai bene!» Annabeth non osò neanche rispondere. Se avesse aperto bocca, probabilmente avrebbe urlato di nuovo, e sarebbe stato poco dignitoso. Era una figlia di Atena, non una di quelle ochette bionde che finiscono sempre ammazzate nei film horror. Però, santi numi! Rannicchiato nella bolla membranosa, proprio lì di fronte a lei, c'era un titano in armatura dorata, con la pelle del colore di una moneta lucente. Aveva gli occhi chiusi, ma il volto era grottato in una smorfia così profonda, che sembrava sul punto di esplodere, in un grido di guerra da far gelare il sangue. Nonostante la membrana che li separava, Annabeth avvertiva il calore irradiato dal suo corpo. «Iperione!» disse Percy. «Odio questo tizio!» Il dolore di una vecchia ferita riaffiorò per un attimo sulla spalla di Annabeth. Durante la battaglia di Manhattan, Percy si era battuto con quel titano sul lago. Acqua contro fuoco. Era stata la prima volta in cui Percy aveva evocato un uragano, impresa che Annabeth non avrebbe mai dimenticato. Pensavo che Grover lo avesse trasformato in un acero. «Proprio così», confermò Percy. «Forse l'acero è morto e lui è finito quaggiù». Annabeth ricordava bene le esplosioni di fuoco che il titano era capace di provocare, e tutti i satiri e le ninfe che aveva distrutto prima che Percy e Grover lo fermassero. Stava per suggerire di far scoppiare la sua bolla per impedire che si svegliasse. Sembrava sul punto di rinascere da un momento all'altro, pronto a carbonizzare qualunque cosa intralciasse il suo cammino. Poi lanciò un'occhiata a Bob. Il titano d'argento stava studiando Iperione con la fronte corrucciata per la concentrazione. Forse lo aveva riconosciuto. I loro volti erano così simili. Annabeth si morse la lingua per non imprecare. Ma certo che si somigliavano! Iperione era suo fratello. Iperione era il titano signore dell'Est, mentre Bob, Giapeto, era il signore dell'Ovest. Senza la scopa e la tuta da inserviente, con un'armatura, un buon taglio di capelli e una passata di vernice d'oro al posto dell'argento. Giapeto sarebbe stato quasi indistinguibile da Iperione. «Bob, dobbiamo andare!» disse la figlia di Atena. «Oro, non argento!» mormorò Bob. «Però mi somiglia tanto!» «Ehi, amico, guardami!» intervenne Percy. Il titano si voltò con riluttanza. «Io sono tuo amico?» gli chiese il semidio. «Sì!» rispose Bob, in un tono pericolosamente incerto. «Siamo amici!» «Tu sai che esistono mostri buoni e mostri cattivi!» continuò Percy. Bob aggrottò la fronte. «Per esempio, le belle signore fantasma che sono al servizio di Persephone sono buone! Gli zombie che esplodono sono cattivi!» «Esatto!» confermò Percy. «Anche per i mortali è così. Ci sono i buoni e ci sono i cattivi. La stessa cosa vale per i titani!» «I titani!» Bob si stagliava sopra i due semidei, lo sguardo rabbuiato. Annabeth era quasi certa che Percy avesse appena commesso un errore madornale. «È questo che sei?» proseguì il figlio di Poseidone con calma. «Bob il titano!» «Sei buono!» «Sei fantastico, in effetti!» «Ma alcuni titani non lo sono!» «Lui, per esempio!» «Iperione!» «È cattivo al cento per cento!» «Ha tentato di uccidermi!» «Ha tentato di uccidere un sacco di gente!» Bob strizzò un paio di volte gli occhi, confuso. «Ma lui mi... la sua faccia è così...» «Ti assomiglia!» concordò Percy. «È un titano come te!» «Ma non è buono come te!» «Bob è buono!» Strinse il manico della scopa. «Sì, ce n'è sempre almeno uno buono fra i mostri, i titani e i giganti!» «Eh... Percy storse un po' il naso. «Beh, sui giganti non ci giurerei!» «Oh, sì!» Bob annui con energia. Anna bettebbe la sensazione che si fossero attardati troppo in quell'avvallamento. Gli inseguitori potevano essere vicini. «Dobbiamo andare!» incalzò. «Che facciamo con...» «Bob, decidi tu!» disse Percy. «Iperione appartiene alla tua gente. Potremmo lasciarlo in pace, ma... se si sveglia...» La scopa lancia entrò in azione. Se Bob avesse mirato ad Anna betto a Percy, non avrebbero avuto scampo. Invece infilzò la bolla mostruosa, che esplosi in un geyser di fango dorato e bollente. Anna bette si tolse la poltiglia di titano dagli occhi, dove prima era rannicchiato Iperione. Non restava altro che un cratere fumante. «Iperione è un titano cattivo», annunciò Bob con il volto cupo. «Ora non può più fare male ai miei amici. Dovrà riformarsi da qualche altra parte nel Tartaro. E speriamo... che ci metta tanto tempo.» I suoi occhi erano più lucidi del solito, come se stesse per piangere lacrime di Mercurio. «Grazie, Bob», disse il figlio di Poseidone. Come faceva Percy a restare così calmo? Il modo in cui aveva parlato con Bob? Anna bette era sbigottita. E anche un po' turbata. Se Percy aveva fatto sul serio prima, quando aveva lasciato la scelta a Bob, non le piaceva per niente tutta quella fiducia che riponeva nel titano. Se invece aveva manipolato Bob per indurlo a compiere quella scelta, beh, era stupita che lui sapesse essere così calcolatore. Incrociarono gli sguardi, ma Anna bette non riuscì a leggere l'espressione di Percy. Anche questo la turbò. «Sarà meglio andare», disse il semidio. Bob si incamminò, con le chiazze di fango dorato della bolla di Pirione che brillavano sulla sua tuta. Anna bette Percy, lo seguirono.